nascerà a Ploaghe ma sarà a servizio dell'intero nord ovest della Sardegna sono state rese note le tempistiche di realizzazione dell'ospice con l'avvio del cantiere nel mese di gennaio e conclusioni dei lavori entro maggio 2024 è questo il cronoprogramma annunciato dal direttore generale della ASL di Sassari Flavio Sensi durante il convegno organizzato dalla Cisla territoriale e dalla Cisla Funzione Pubblica nell'incontro dal titolo un hospice a Ploaghe ma per l'intero territorio svoltosi nell'ex convento dei Cappuccini il manager dell'ASL ha illustrato l'iter di conclusione dei lavori dell'ospice otto posti letto dedicati alla presa in carico delle persone affette da patologie inguaribili in fase avanzata e malati in fase terminale che hanno bisogno di un'assistenza di cure palliative una struttura che si pone come obiettivo quello di accompagnare e migliorare la qualità di vita del paziente controllando non solo i sintomi della malattia di base ma anche fornendo un supporto socio psicologico sia al malato che alla famiglia l'ospice finanziato con un milione di euro di fondi regionali verrà realizzato all'interno della struttura sanitaria san giovanni battista di Ploaghe l'iter della progettazione esecutiva avverrà in questi giorni di ottobre successivamente seguirà la procedura negoziata per l'affidamento delle opere le procedure organizzative ha precisato Sensi non possono però prescindere ad alcuni importanti elementi non può prescindere dalla organizzazione personale che è una dotazione nuova quindi persona aggiuntiva per l'asla un ammodernamento tecnologico nel senso di dotazioni nuove che l'ospice deve avere dal punto di vista dei sistemi informatici dei sistemi informativi e anche di tecnici di intelligenza artificiale che oggi sono disponibili per questo tipo di assistenza prima Ploaghe e poi Sorso annunciano dall'AS numero uno per dotare il territorio del meglio delle infrastrutture tecnologiche applicativi disponibili sul mercato che consentiranno un miglioramento della qualità delle cure e del benessere lavorativo del personale